siamo un nabbi siamo un nabbi tu forse bravo io son senza e stanno giocando loro due se vedete che il mio personaggio è nabbo è lei perchè io parla il marziano che forse è meglio perchè scemo perchè scemo perchè nef e scemo inglese guarda è giusto iniziale tu sei nuda per quello guarda quello nudo si che dovevi farlo vedere è un culto ormai un culto capito la prendi poppy prendi poppy ora tu lo metti in culo e fa male quello lo sai ah lo sai what the faggots mi ci sono dei lavori in corso oggi proprio oggi dei lavori in corso proprio oggi dei lavori in corso che c'è melli stai rovinando il personaggio più famoso del tutto del tutto sono fatti zitto zitto uoh alta hedgehot on the face hai visto lo dice anche melli che non è vero melli scusa scusami no che scemi quelli lì in fondo ti stavo uccidendo con lo sguardo hai lanciato il fucile in testa si ora trollatevi su che cosa cavolo lavorate insieme vi dovete trollare ah che cavolo è successo come cavolo hai fatto c'è ma guardate questi qua che lavorano insieme è meglio di trollarsi tanto ci trolliamo c'è lo sai cosa mi ricorda come si chiama quel programma dell'acqua escono quei cosi lì tutti si buttano ci sono le palle gigante eh nooo wipe out benvenuti su wipe out lo vedi benvenuti su wipe out ora attenti ma che che fai stava volando in aria col culo faceva così what the fuck dai wipe out ok come primo ostacolo fatto secondo eliminati di già primo colpo vai nooo ci stavi facendo ah ecco brava Freudianz che lo fai dopo che l'hai saltata eh sei intelligente ma c'è c'è non funziona li potete anche spingere nelle trappole eh si jjj come fa Freudianz guarda si ma dai Freudianz oh trappola qualcuno ha attivato la trappola ah no vai ciè non capivo cosa devo fare per me è meglio solo culo guarda la che ho detto ho la Freudianz muo ah no però stavi per morire ah no me li prende l'arma e li ributta ahahah e poi dice sono senza armi e quindi va via la botta che fa ahahahah che fa che fa che fa che fa ero felicissimo dice pinzellino ha regolato oh shit wipe out ahahah 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 che sei nervoso ahahah o va stas un castoro e forte non lo so ma sta ahahah ahahah casetta ahah ah di nuovo questo non mi scaccio Qualcuno ha un'altra dietro Sei uno squalo Il vento è troppo forte Wipeout part 2 Vai Ma che cavo Che cavo Che cavo ci è saltato Sì sì Avrei saltato anche io come scusa Avrei pensato di essere Come cavo è possibile Perché non salta Che culo A parte che che culo Guarda l'avete visto quello Era il tizio che fa i cappelli E' il cattivo Mi che No Guarda Che violenza No aspetta Ti aiuto io Vai Che fate Guarda il mio non ha più voglia Sì guarda la tua Perché sei quasi morta Assù Per quello è stanca Non corre più No guarda lo vedi Non corre più come un ninja Con il cappuccio Melli Uccidi a Uccidi a Froliance Perché Sei morta L'hai fatto davvero Che razza di emo What the fuck Che glitch è quello Oh chi prende la motosega? Chi la prende? Froliance è chiaro Perché Melli Chiaro è la È più forte di tutti Perché non ha bisogno Di motosega Stava leggendo il libro Poverino Come Come Ti ha interrotto l'onda energetica Ah no è vero In italiano è onda Da carta igienica Un video Guarda come è so forte Quel pinzellino Che schifo Che schifo Sì intanto Lì stanno distruggendo tutto Oh cosa c'è qua di così duro? Non l'ho capito Bello questo capitolo Dolcetti Suicite Volete giocare ancora? No tocca a te Tocca a me No Tocca a te E tocca a me Grazie Guarda si stava divertendo Poverino Si stava divertendo Poverino No